Io non ci sto più a vedere gente che soffre, che perde il lavoro, che si ammazza e questi qui in televisione con queste facce da culo, facce da culo, cazzo culi, cazzo culo, da re, cazzo porca negri. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!